Parrucchiere, ti arriva una cliente marroncina che vuole diventare finalmente bianca per non fare più la tinta. Ovviamente non lo vuole grigio. Tu cosa ne pensi? Si può fare o non si può fare? Te lo dico io, si può fare, però a patto che tu faccia una marea di schiariture. Un lavoro veramente certosino, un lavoro veramente complicato che però si può fare. Allora, uno dei segreti per riuscire ad ottenere questi colori è quello di conoscere i segreti del tonalizzante. Quindi, se ancora non lo sai, puoi fare il mio corso dove ti svelo tutti i segreti per una tonalizzazione perfetta. Te la ricordi com'era? Un po' marroncina con la sua base bianca? E ora abbiamo ottenuto un biondo dorato, un bianco dorato. Abbiamo rispettato al massimo la salute del capello. Ovviamente abbiamo tagliato qualcosina perché la cliente voleva tagliare qualcosina e questo è il risultato finale. Se ti è piaciuto, scrivimelo!